Rivoluzione nell'automazione della raccolta Auto-Maintain, una funzionalità di Combine Advisor regola automaticamente le impostazioni della vostra MIT Trebbia per mantenere gli obiettivi di perdita e qualità della granella al variare delle condizioni. Auto-Maintain elimina la necessità di regolazioni manuali ricorrenti e offre a voi operatori la sicurezza che la MIT Trebbia lavori al massimo dell'efficienza indipendentemente da chi la guida. Una delle caratteristiche di Combine Advisor è il sistema di telecamere Active Vision, progettato specificatamente per identificare i cambiamenti della qualità granella. È possibile visualizzare queste telecamere premendo il pulsante Live Camera nella schermata di Combine Advisor. Le telecamere Active Vision forniscono la visualizzazione in tempo reale della granella pulita e dell'elevatore del recupero. Uno dei vantaggi della telecamera dell'elevatore e della granella pulita è l'opzione di visualizzazione, che fornisce un'identificazione codificata a colore dei problemi relativi alla qualità granella, quali materiali estranei, granella non trabbiata e granella spezzata nel campione. Prima di attivare la funzione Auto-Maintain, è possibile utilizzare la funzionalità Ottimizzazione delle prestazioni per immettere gli eventuali problemi di qualità e di perdita della granella. Potete selezionare uno o più problemi alla volta, segnalare il loro livello di qualità. Il sistema terrà conto delle condizioni e impostazioni attuali per raccomandare soluzioni appropriate. Le soluzioni possono essere applicate direttamente dallo strumento Ottimizzazione delle prestazioni. Continuate la raccolta per alcuni minuti e controllate di nuovo un campione di granella. Una volta che i livelli di qualità e di perdita del campione sono accettabili, è il momento di impostare un target di prestazioni, così l'impostazione di Otto-Maintain è completata. Dopo aver impostato i target e le prestazioni, fate riferimento alla schermata delle impostazioni di Otto-Maintain per regolare i livelli di aggressività e sensibilità della risposta. Utilizzando i sensori integrati, la macchina rileverà se le perdite o le prestazioni di qualità si discostano dal target desiderato ed eseguirà automaticamente le regolazioni richieste. Se notate un'impostazione in blu nella schermata iniziale, il sistema Combine Advisor sta eseguendo le regolazioni. La pagina della cronologia permette di esaminare le prestazioni. Visualizzate la scheda per osservare le tendenze dei livelli di perdita granella e di qualità granella rispetto al livello target. Come potete vedere, i parametri granella spezzata e perdita separatore stanno superando il livello target. Nella scheda Active sono mostrate le regolazioni che Otto-Maintain sta effettuando per riportare i livelli di qualità e di perdita all'interno del target. Qui potete vedere che la distanza di trebbiatura e la velocità del rotore sono diminuite. Se il problema si ripresenta, verranno portate nuove modifiche. È possibile vedere una cronologia delle regolazioni dei problemi nella scheda Completati. Otto-Maintain lavora insieme a Harvest Smart per mantenere il rendimento della macchina. Selezionando l'opzione di gestione Target con perdita della granella, si regolerà il target di potenza motore se i livelli di perdita granella superano le prestazioni impostate. In entrambi questi scenari potete vedere come i sistemi vi aiutano a ottimizzare la vostra macchina e a lavorare per mantenere le prestazioni che vi aspettate. Grazie. 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 Grazie.